Per una questione di studi, il mio percorso di studi è storico, avevo comunque desiderio di lavorare in una biblioteca e il servizio civile mi permetteva di fare questo. Di conseguenza è stato uno dei pochissimi modi per cui accedere a questo mondo professionale a cui ambisco, che mi piace. Mi aspetto comunque una crescita personale, una crescita professionale, mi aspetto di conoscere gente, dei professionisti che hanno comunque la possibilità di formarmi in qualche modo. È sicuramente bella come sensazione perché mi dà la possibilità di mettermi alla prova e dare la possibilità di dare un contributo personale alla comunità.